Casorla, l'arbitro facendo riproseguire. Con perizia salta l'avversario. Procede palla a piede. Che numero! La palla schizza via dopo il contrasto. Supera l'avversario diretto con uno scatto bruciante. Andrebbe multato per eccesso di velocità. Ha rischiato molto entrando... Un altro gol! Si è lanciato in uno slalom degno del miglior tomba. Lasciando di sassi i difensori prima di battere il portiere. Prea avesse la palla incollata al piede Fabio. Pochi riescono a correre...